Buongiorno FTI Online, Fuzzimib inflessione questa mattina meno 0,63% al momento a 16.750 punti, abbiamo quindi una fase di rifiacciamento dopo il tentativo di rialzo ieri che aveva visto le quotazioni salire al di sopra della parte alta della fase laterale disegnata dai prezzi a partire dai massimi del 12-13 luglio, la situazione quindi torna a essere incerta solo se i prezzi sapranno confermarsi nel corso della giornata odierna al di sopra dei 17.000 punti, verrà inviato un segnale di forza interessante che permetterà di ipotizzare il ritorno a 17.250 ma anche fino ai 17.500 punti, in caso di discese al di sotto di 16.660 invece il rischio di ritorno nella parte bassa del trading range delle ultime due settimane sui 16.430 a 440 punti. In una seduta dai connotati così incerti ci sono i titoli difensivi che cercano di mantenersi positivi, tra queste abbiamo Terna e rialzo lo 0,45%, siamo a 4,90 Euro circa contro una chiusura nella struta ieri a 4,87 Euro, quindi il titolo si conferma in pressing sulla parte alta del trading range che le quotazioni hanno disegnato nel corso delle ultime due settimane, resistenza a 4,87 Euro, già messa alla prova nella struta ieri e anche nella giornata di oggi, se le quotazioni riusciranno a mantenersi al di sopra di area 4,87 anche in chiusura di seduta, sarà possibile immaginare il raggiungimento della forte A di resistenza collocata intorno a 5,05 Euro dove si vedono i massimi del 31 maggio e del 9 giugno, al di sopra di quei livelli il target si sposterebbe invece sul picco del 30 di marzo a 5,12 Euro, solo se dovessimo ridiscendere al di sotto della base della fase laterale che si sta sviluppando da un paio di settimane, quindi al sotto di area 4,79, ci sarebbe un rischio di un deterioramento del quadro grafico con un primo supporto già a 4,57 Euro dove si colloca la base del gap del 29 giugno, ma con il rischio di scendere poi anche su prezzi di sotto di quelli, prima di passare all'analisi di Enel che è il prossimo titolo che andremo ad analizzare, guardiamo proprio il rapporto di forza relativa tra Terna e Enel per capire se dallo studio di questo si ricavano delle indicazioni interessanti, vediamo che nel corso dell'ultimo trimestre circa il grafico di forza relativa è rimasto praticamente orizzontale, quindi due titoli si sono mossi di conserva, nel lungo termine sicuramente abbiamo avuto Terna che ha saputo ben sovraperformare Enel come si vede dai minimi dello scorso agosto fino ai massimi di quest'anno ad aprile, tale fase di sovraperformance sia tuttavia come abbiamo visto ridimensionata per lasciare posto ad un movimento laterale, quindi in questo momento i due titoli possono essere considerati da un punto di vista di forza del trend sostanzialmente un analogo. Guardiamo adesso quindi Enel in dettaglio, questa mattina siamo sostanzialmente sulla parità, poco a di sopra dei 4 Euro, chiusura ieri a 4,02, quindi i propri prezzi attuali, c'è tentativo da alcune giornate di superare la resistenza di 4,05, se questo tentativo dovesse avere successo diventerebbe possibile il recupero del piccolo doppio massimo, quindi del Tweezer Top che si era venuto a disegnare l'8 e il 9 giugno a 4,16 Euro circa, oltre a quei livelli spazio di crescita che potrebbe anche andare ad interessare i massimi dello scorso luglio a 4,45 Euro circa e quelli dello scorso maggio a 4,50 Euro. Diciamo che di fatto se ci dovesse essere una rottura confermata in chiusura di seduta di 4,05 Euro, sarebbe lescito immaginare il proseguimento del rialzo nell'ambito di questo canale crescente, quindi con obiettivi via via in aumento, anche se in modo graduale, perché la pendenza del canale non è particolarmente decisa. In un'ottica temporale più estesa è interessante notare come il titolo si stia muovendo nell'ambito di una ampia fase laterale, quindi il ritorno sui 4,50 Euro che abbiamo ipotizzato prima non sembra essere un elemento di difficile realizzazione, in quanto non comporterebbe la rottura del limite del trading range. Solo se dovessero ritornare a di sotto di area 3,97 e 3,98 ci sarebbe un rischio di approfondimento del calo con un primo obiettivo sulla base del gap che preziano disegnato il 29 giugno, posizionata a 3,76 Euro circa. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero. Grazie.